Allora, ciao a tutte, ci siamo salutate anche stamattina, volevo ringraziare per comunicare il sociale Arti per avermi invitato, per avermi invitato Arte Bimba, ecco, vabbè, adesso vi sono un po' emozionato perché ho dei problemi serie a parlare in pubblico ma che cercherò di superare. Allora, questa non sarà una lezione perché siamo una realtà fresca fresca, tre mesi, abbiamo aperto il 6 ottobre e quindi non penso di essere abbastanza qualificata per fare una lezione su niente, né di marketing, né di... ma porterò la mia esperienza pratica che è durata, che è cominciata un anno e mezzo fa ed è tuttora in progress nel senso che appunto avendo aperto tre mesi fa siamo ancora in fase di rodaggio e in fase di come andrà, vediamo, speriamo bene. La risposta nei primi mesi devo dire che è stata buona perché sembrava che ci stessero aspettando, nel senso che in Italia una realtà del genere non esiste e sembrava proprio che ci stessero aspettando le famiglie ma anche proprio in generale anche... abbiamo avuto anche dei riscontri sui mezzi di informazione e in generale appunto la risposta è stata buona, quindi per questo penso di essere qui e vi racconto. Dunque, l'idea è cominciata, è partita da una serata, da una serata con una mia amica, siamo amiche da 15 anni e entrambe eravamo in una situazione un po' particolare, io sono architetto di formazione, lei è figlia di ristoratori, i suoi genitori hanno un ristorante da 30 anni, lei ci lavorava da 20 e nell'ottobre 2013 la viveva a Roma, io lavoravo come architetto a Brescia e entrambe eravamo in una situazione un po' precaria, nel senso che io lavoravo in uno studio, diciamo non propriamente pagata adeguatamente, quindi dovevo fare altri 5 lavori, lei invece era a Roma, faceva la comunicatrice per organizzazioni non governative tipo Unicef, Medici Senza Frontiere e però insomma aveva questo desiderio di tornare a Brescia, quindi ecco, un momento di crisi entrambe, ci vediamo in una sera e cominciamo a pensare cosa potremmo fare mettendo in gioco soprattutto le nostre esperienze pratiche e le nostre competenze. Serie di idee viene fuori alla fine, cosa che manca in Italia potrebbe, l'idea era partita in realtà la stavo raccontando prima a pranzo, dà vabbè io amo l'arte e quindi sono orientata per quello che arte bimba si chiama family art cafe, quindi ero orientata più su una cosa artistica, quindi la mia idea originaria era fare qualcosa di ok commerciale, ok a livello di ristorazione, volevo fare una specie di bar, caffetteria, aperitivi più che altro con performance live, poi abbiamo fatto due ragionamenti, abbiamo detto forse una cosa che non è troppo diciamo commerciale, neanche questo, vediamo se è commerciale perché non abbiamo ancora riscontri proprio pratici, però ecco abbiamo pensato comunque di intercettare una richiesta e cercare di andare incontro a una richiesta che veniva appunto dal mondo che poi noi conosciamo che sono le nostre amiche, cioè le nostre amiche che hanno figli, qual è il problema principale non escono più, perché? Perché hanno i figli, quindi il problema è che non ci sono posti dove bere un aperitivo, bersi un caffè, un tè con bambini che possono comunque giocare, che possono stare, anche solo stare in un locale senza disturbare gli altri, punto primo, e poi accolti in un certo modo in secondo tempo. Quindi ecco, l'idea è partita così, momento di crisi di entrambe, mettiamoci insieme, inventiamo qualcosa, io cosa so fare? Io sono, diciamo, ho esperienza nella ristorazione, ho comunque i miei genitori che mi possono sostenere in questa cosa, mi possono dare una mano anche ad avviare una attività di tipo all'interno della ristorazione, io cosa so fare? Invece sono architetto, ok, in passato ho anche organizzato eventi, mostre, concerti attraverso un'associazione, comunicazione, computer, grafica, fotografie, tutta questa parte, diciamo, sono abbastanza dentro e quindi niente, cominciamo a imbastire un progetto. Questo è partito, quest'idea è partita a ottobre del 2013, quindi possiamo dire che, allora, ecco, praticamente il nostro ITER è durato un anno di preparazione solo per l'apertura. Ovviamente abbiamo dovuto risolvere anche delle situazioni pregresse, lavorativamente parlando, però, ecco, anche per studiarla in modo ad hoc, prima di tutto per il territorio in cui la andavamo a proporre, cioè Brescia, cioè l'Italia, perché questo non è, noi non abbiamo inventato niente, devo dirlo, perché tutti quelli che arrivano e mi dicono, ah ma che bella idea, non è nostra, cioè noi non abbiamo inventato niente, abbiamo soltanto importato dal nord Europa, dai paesi del nord Europa, un'idea che già lì c'è ed è sviluppata e ce ne sono parecchi. A Berlino, in paesi Scandina, via Londra, ci sono queste realtà, funzionano, forse anche la società è abituata e anche predisposta in un altro modo rispetto a quella italiana, però ecco, non abbiamo inventato niente, abbiamo soltanto importato un'ottima idea. Quindi, ecco, io vabbè qua ho più o meno riassunto quella che era la nostra idea iniziale, cercando di focalizzare le idee principali. Dunque, è un progetto partito appunto da due giovani donne, quindi vabbè tutti ci chiedono perché arte bimba in un'arte bimbo, punto primo perché siamo donne, punto secondo perché l'arte è femmina. Ecco, l'idea fondamentale era, ok, bar, caffetteria, però anche molto altro, cioè creiamo uno spazio che diventi un po' un punto di riferimento per la città, per le famiglie con bambini che non vogliono passare il sabato pomeriggio al centro commerciale o Donald o nei posti enormi, magari dispersivi, dove sono o solo per gli adulti o solo per i bambini. La nostra idea è riuscire a integrare le due cose, cioè creare un posto dove i genitori, che i bambini si sentono accolti. Come si fa? Si offre ai genitori dei prodotti buoni e un'offerta, non diciamo gastronomica, ma semplicemente di bar, di offerta di ristorazione e accogliente. E per i bambini uno spazio dove giocare liberamente, senza costruzioni o comunque con delle varie agevolazioni studiate appositamente per le famiglie. Che detta così è semplice, in realtà è semplice. Ci sono delle cose, delle minime attenzioni che però non si trovano da nessuna parte, non si capisce come mai. Per esempio, banalmente, i fasciatoi, adesso varie catene o vari ristoranti si stanno attrezzando. Magari nei posti turistici ce ne sono di più, ma nelle città non turistiche non le trovi. Che voglio dire, tutti hanno figli, dovrebbero starsene tutti a casa, in teoria. E quindi niente. Allora, vorremmo, ecco, prima ovviamente di tutto l'inizio del processo abbiamo cercato di raccogliere delle informazioni. Noi abbiamo dichiarato che è il primo family bar a Brescia. In realtà abbiamo scoperto, anche dal momento che sono qui, che probabilmente è il primo in Italia. Perché, parlando anche prima, abbiamo più o meno avuto le stesse informazioni. Ce n'era uno che si chiamava Baby Bar a Parma, che però è rintracciabile. Ho provato anche a rintracciare via Facebook la titolare, ma la risposta non è scomparsa nel nulla. Poi c'è una ludoteca a Cremona. Ludoteca dovrebbe essere una associazione culturale, quindi è più circolo, quindi non è una cosa, diciamo, pubblica. È più orientata proprio per i bambini, quindi collaboratori. Però penso che abbia anche una tessera, non vorrei dire castronerie. Però ecco, e quindi, niente, noi abbiamo provato e abbiamo detto, vabbè, a quanto pare siamo i primi, perché ci sono venuti anche dalla Liguria, da Bergamo, a trovarci, a chiederci, vabbè. E quindi, niente, la nostra era il primo family bar in Brescia, in realtà siamo stati fin troppo morigerate, forse siamo anche in Italia. Va bene. Ecco, un riscontro del fatto che probabilmente è una strada corretta verso cui muoversi è che le grandi catene di ristorazione già lo fanno, cioè McDonald's, cioè i Silvani, vabbè, da noi. Ci sono varie catene in franchising o proprio catene che già hanno delle aree gioco. La maggior parte di queste sono gestite da educatrici, quindi tu arrivi e lasci il bambino nell'area gioco e dopo tu mangi o prendi il caffè. Da noi è un po' diverso, da noi è una cosa più simile a quello che abbiamo visto nei paesi del nord Europa, cioè è uno spazio per la famiglia, non per i genitori che poi lasciano i bambini. Questo era l'idea originaria. Poi vediamo che è una cosa comunque un po' da costruire, proprio a livello anche di mentalità, di costume e questo secondo me è uno dei nodi abbastanza critici della cosa, perché spesso vediamo che la gente arriva, ok, vai nel gioco. In realtà la nostra idea sarebbe un locale per tutta la famiglia, quindi ok, tu bevi l'aperitivo, ma il bambino gioca, ma è comunque con te, c'è comunque un'interazione tra bambini e adulti, però magari in futuro in calma. Allora, ecco, noi crediamo che possa essere un'innovazione importante e positiva, chiaramente, perché appunto fai un figlio a casa, cioè stai a casa, invece no, comunque usciamo e vediamo comunque amici e non barricchiamoci in casa. È una cosa che comunque crea anche comunità, cioè la nostra, diciamo, idea sarebbe molto ambiziosa, però sarebbe questa. Allora, dunque, una delle cose fondamentali, dei problemi fondamentali, che vabbè, immagino che se avete pensato in questo tipo di percorso vi sarà capitato di domandarvi è il luogo. Ovviamente deve essere in un posto, non troppo lontano dal centro, in un centro urbano abbastanza vivo, non troppo in centro, non troppo nel centro storico, perché comunque le mamme arrivano in macchina e devono parcheggiare. Quindi, diciamo che da noi il parcheggio, uno dei nostri punti critici è un po' il parcheggio. Però ecco, non siamo proprio nel centro storico, quindi ci si arriva in macchina, siamo abbastanza vicini alla metropolitana, perché Brescia è nuova metropolitana, il quartiere è abbastanza servito dai mezzi pubblici, quindi questo è una cosa abbastanza fondamentale, come tutte le attività commerciali. Se tu hai un'attività commerciale, lo sai, ovviamente questa è la posizione fondamentale. Quindi il mio consiglio è... Il punto di vista è proprio perché c'è, essendo comunque in centro, abbastanza prospicente, quindi c'è il centro. Aspetta che... Allora, sì, dicevo, a noi l'attività è piuttosto prospicente il centro, cioè a 100 metri abbiamo proprio la piazza principale del paese, è il posto, diciamo, di passeggio. C'è possibilità di parcheggiare, cioè non c'è tutto questo... Esatto, non c'è un parcheggio. Dipende poi molto dagli orari, però sì, diciamo, abbiamo scelto quel punto proprio perché magari uno deve avere la possibilità di parcheggiare. Sì, quello devo dire che purtroppo, perché comunque la macchina... Rispetto a quello che hai detto prima, volevo dire, c'è proprio qui a Molfetta, non so se lo sapete, c'è la mensa che è alla zona industriale, Mr. Chef, ha un'area gioco per i bambini, dove tu chiaramente arrivi e la mentalità è esattamente quella, parcheggi il bambino e poi sei libero di fare quello che vuoi. Cioè, quello che noi troviamo appunto di disagio, come anche noi come famiglia, noi non usciamo più da una vita, cioè ormai lavoriamo e basta e la sera stiamo a casa, quindi... Ma neanche il... cioè tipo stasera io, proprio nella mia mentalità, non esiste più che il sabato si esce. Cioè il sabato si sta a casa sereni, cioè non ci si prepara per l'indomani, perché ormai è diventato quello. Quindi l'idea è avere un posto dove io arrivo e non mi devo sentire libero neanche di parcheggiare, cioè non mi devo sentire né a disagio che sto dando fastidio ad altra gente, perché con i bambini è così, ma non devo neanche parcheggiare il bambino. Cioè questo... perciò mi piace, diciamo, quello che tu dici di voler arrivare ad un punto di comunità. Allora, la nostra idea, anche per come abbiamo strutturato il locale, le varie attività, la nostra proposta, sarebbe questa. Nel senso, non abbiamo educatrici, non abbiamo animatrici fisse, non abbiamo niente di tutto ciò, quindi abbiamo un'area gioco, però ovviamente tu sei responsabile del bimbo... No, però diciamo, anche in questo posto che ti dicevo prima, l'area gioco è libera, il bambino va ed è libero anche di farsi male, voglio dire. Però il problema, secondo me, a cui porre forse maggiore attenzione è che nel locale ci siano magari degli eventi o delle situazioni che coinvolgano la famiglia tutta. Io non ti nascondo, mi vergogno, anche un po' a dire lo gioco pochissimo con mia figlia, perché veramente c'è mancanza di tempo, oppure quando io ho tempo lei è già addormentata. No, noi devo dire che vediamo proprio questa diversità di approccio, anche tra i nostri clienti, che vabbè, comunque ci sono già dei clienti ricorrenti, affezionati, e ce ne sono proprio di un po' due tipologie, cioè quelli che vengono e giocano quel bambino nell'area gioco, e invece quelli che lo lasciano. Vabbè, la nostra idea sarebbe comunque di un momento aggregativo per tutta la famiglia. Poi ovviamente se ci sono genitori che vengono e finalmente riescono a leggersi il giornale, ben venga, cioè il primo giorno, mi ricordo, primo giorno di apertura c'erano due papà, cosa assurda, due papà con i bimbi, tutto il pomeriggio ovviamente nessuno, perché il primo giorno io e la Robi che ci guardavamo, ma verrà qualcuno, arriva due papà con i bimbi, a un certo punto vanno di là, i bambini cominciano a giocare nell'area gioco, dopo un quarto d'ora guardiamo e i due papà stavano chiacchierando, niente, praticamente sono diventati amici, tipo un quarto d'ora chiacchieravano amabilmente, per mezz'ora grandi chiacchierate, perché comunque è un posto che un po' crea questa accoglienza, questa vicinanza. ecco appunto un punto di riferimento, ecco la ricerca del posto proprio per questi motivi è stata abbastanza lunga, ci abbiamo messo circa tre mesi di ricerca in tutti i locali, diciamo limitrofi al centro di Brescia, però alla fine l'abbiamo trovato. Il percorso dunque, qua brevemente volevo, per farvi capire più o meno quanto ci abbiamo messo, la nascita appunto a ottobre, l'inizio della ricerca del finanziamento a dicembre, in realtà abbiamo partecipato a un bando della regione Lombardia a novembre, che però non abbiamo vinto, perché devo dire che siamo un po' digiune di tutto quello che concerne marketing, business plan, tutte quelle cose lì, abbiamo voluto farcelo noi e buonanotte, praticamente non abbiamo cavato niente e quindi niente, abbiamo cercato un finanziamento in banca e l'abbiamo ottenuto fortunatamente, a gennaio abbiamo cominciato a cercare l'immobile, l'abbiamo trovato a marzo, aprile circa, a aprile abbiamo formato una società, perché ovviamente essendo soci al 50 abbiamo dovuto fare la società, abbiamo scelto una SNC, abbiamo creato la società, abbiamo poi aperto il conto finanziamento, l'inizio dei lavori di adeguamento abbiamo cominciato a maggio, perché c'era da mettere a posto il bagno, tutte queste cose disabili e poi abbiamo finito agosto. Da maggio ad agosto abbiamo anche passato tutta un periodo di manovalanza pesante, cioè abbiamo deciso, facciamocelo noi il locale, ma facciamocelo proprio noi, cioè tutto di riciclo, tutto di riuso, quindi mercatini, vernici, pitture, dipingi, scartavetra, quindi è stata una cosa anche pesante da quel punto di vista lì, ovviamente io essendo architetto non mi andava bene il bar normale, devo dire anche per questioni sia estetiche, che mi diverso, o comunque nel senso ci tenevo particolarmente, e anche economiche, nel senso che la maggior parte dei tavoli che abbiamo in arte bimba sono vecchi mobili di mia nonna restaurati, ridipinti, e quindi ci abbiamo proprio messo la manovalanza noi, con le nostre belle manine. E ecco, tra agosto e settembre abbiamo fatto tutto il resto, tutto il resto che sembra detto così, tutto il resto, ma c'è dietro comunque tutto un lavoro anche di grafica, di comunicazione, che appunto non essendo professionisti, né io né lei, comunque abbiamo cercato di più o meno, in modo dilettantesco, di portare avanti. È andata bene, devo dire, siamo state abbastanza brave, ci siamo fatte un po' un mazzo, però è andata bene, quello devo dire che ha funzionato. E finalmente abbiamo aperto a ottobre. Questo, vabbè, questo faceva parte della nostra idea di business plan. Dico che faceva parte perché in realtà è un po' casereccia. Però ovviamente sono tutte cose su cui abbiamo ragionato. Certo, non siamo esperte, non abbiamo chiesto a un professionista, però sono tutte cose che comunque nell'arco di un anno abbiamo problematiche che abbiamo affrontato. Cioè, il nostro settore di riferimento, cioè il nostro target. Cioè, a chi ci rivolgiamo, a tutti, a una clientela particolare. Cioè, abbiamo pensato la mattina faremo le colazioni per tutti. Questa è la nostra idea iniziale, ovviamente. La pausa pranzo per i lavoratori, abbiamo pensato principalmente professionisti, perché essendo il posto, il luogo, proprio l'ambiente di un certo tipo, un pochino magari ricercato, la nostra idea iniziale, questa è una cosa che avevamo pensato allora. E il pomeriggio faremo le merende per le famiglie con i bimbi. Abbiamo analizzato i nostri punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e i rischi. I punti di forza, ovviamente, l'idea innovativa in primis, la competenza e le varie esperienze nostre in diversi campi, la qualità dei prodotti, perché comunque vogliamo ottenere una qualità abbastanza alta, con un'attenzione per il biologico, per il naturale e per il chilometri zero, nel possibile, ovviamente. Mantenendo comunque un prezzo competitivo, perché ovviamente le famiglie sappiamo che, specialmente in questo periodo, non si possono alzare troppo i prezzi, perché una mamma che viene con mamma e due bambini, rischiamo comunque, se avessimo alzato troppo il prezzo, avremmo rischiato di fare una cosa di elite e non volevamo farla, perché non è nella nostra indole, ecco. E poi, ecco, l'idea era di ricreare un ambiente accogliente e ricercato, ma comunque familiare. Ci siamo riuscite, non lo so, me lo direte dopo, però lo vorrevamo fare attraverso appunto questo riuso, questo colore un po' ovunque e questi materiali abbastanza poveri e di riciclo. I nostri punti di debolezza potevano essere, perché la presenza dei bambini potrebbe allontanare una parte della clientela. Questo, ad oggi, rimane uno dei nostri dubbi fondamentali, anche nella creazione, per esempio, dei volantini, per esempio adesso stiamo creando il nuovo volantino, il nostro problema fondamentale è puntiamo più sul bar o puntiamo più sul family cafe, cioè cerchiamo di intercettare il nostro target di famiglie con bambini, quindi il volantino sarà specifico e comunque richiamerà quella clientela, oppure cerchiamo di dire arte bimba un bar per tutti. questo, ad oggi, è ancora un nodo che probabilmente spero che si dipanerà col tempo, cioè adesso, ad oggi, ci sono ancora persone che passando davanti si fermano e guardano. Dopo vi farò vedere le fotografie della vetrina, e guardano e dicono ma è un asilo? No, è un bar. Allora dobbiamo scrivere grosso sulla vetrina, questo è quello che stavi dicendo anche tu, che ovviamente più la tua proposta è particolare, innovativa e differente dal normale, più non si capisce, più la devi comunicare bene, più comunque, anche se la comunichi bene, comunque non capiscono, perché purtroppo è così, perché io, magari, che ho una certa formazione, guardo il volantino e cerco di leggere tra le righe, ma non tutti, la gente si ferma al volantino, legge, non mi interessa via. Quindi, ecco, questo, ad oggi, è uno dei noccioli fondamentali, spero che andando avanti verremo conosciute come bar, perché comunque abbiamo il caffè buono, e verremo riconosciute come femmini caffè. Ok, ecco, le opportunità, cosa fondamentale, se voi volete aprire un cammini caffè, è la vicinanza di scuole, di asili, di punti di ritrovo per le famiglie, anche perché la classica dinamica delle madri portano a scuola il bambino, e poi si fermano a far colazione. Ecco, questa noi non l'abbiamo ancora intercettata, quindi, se voi ci riuscite, direte come avete fatto. Eh? Ma mi dicono, a Brescia, sembra che ci sia, poi... Da qui è un'isceglia, c'è un'antenaire. Eh, vedi, c'è... Esatto, quindi... Sì, sì, comunque, ecco, la vicinanza di scuole, di asili, ma più che altro anche per la merenda pomeridiana. Cioè, noi abbiamo, dalle 4 scatta l'ora X e arrivano. Dalle 4 a 4 e mezza arrivano. Alle 6, campanella, tutti a casa. Quindi, è abbastanza importante, ecco. E poi, ecco, la dimensione del quartiere e possibilmente la vicinanza al centro della città, semplicemente per una questione anche di visibilità. Cioè, vai a farti un giro in centro e dopo non vai al bar. Normale, diciamo, ma vieni da noi a farti la merenda. Eh... E i rischi, ecco. Eh... No, i rischi, secondo me, più che altro, appunto, quello che dicevo, no, non lo dicevo prima, no, i rischi potevano essere in una valutazione anteriore che la nostra possibile clientela non fosse pronta. Cioè, ok, nel nord Europa esistono, funzionano, ce ne sono tanti, ma in Italia non ci sono. E' la classica frase che dicono se non ci sono, ci sarà un motivo. Quindi, noi, all'inizio, abbiamo detto, bello, non ci sono. Speriamo che sia perché non ci sono ancora pensato e non perché in realtà qua ci sono modi di agire diversi e abitudini diverse. secondo me si guarda solo nell'ottica, diciamo, di mercato, cioè, ad esempio, nel caso del bar, io adesso ti parlo qui per quello che ho visto anche in questi anni, in quella che io chiamo l'industria del divertimento, perché, ad esempio, voi a Molfetta qui avete tante cose, no, a Biceglie è basato solo sui locali, sul divertimento. forse il ragazzo, il giovane, è più appetibile per il ristoratore, cioè, proprio nell'ottica commerciale, è più appetibile per il ristoratore, per il rep, perché è sicuro che magari esce, è sicuro che consuma, è sicuro che vuole divertirsi. La famiglia, pur avendo, tra virgolette, lo stress del non uscire, perché io lo riconosco di non avere più una vita sociale, no, chiaramente, ho quei quattro amici in croce che ogni tanto ci vediamo per conto nostro, però... L'idea è pure la nostra, quella di creare un'attività di ragazzo di gente che non ci sono e che non ci sono e che non ci sono e che non ci sono ripartiamo, ma ripartiamo da te? Cosa stavano dicendo? Non mi ricordo. Stavo dicendo che l'unico timore, non timore mio, diciamo, forse da noi qui il discorso del... non che non va il family cafe, però potrebbe essere percepito come una ludoteca, perché magari, diciamo, il gestore del bar o del locale o del ristorante forse è più interessato al ragazzo, al giovane che magari... Quindi, nel senso che questo fatto di... non di... non voglio dire che non avete un'identità, però avete paura di allontanare l'altra clientela, secondo me quello è proprio un bivio, cioè dovete scegliere... esattamente. Ed è la stessa cosa che capita a noi, noi non sappiamo se siamo un negozio di alimentari, un take away, un ristorante o... Quello sono le cose ibride. Noi diciamo come abbiamo voluto portare il web fuori dal web e diciamo che siamo una food community, cioè un posto dove la gente si trova e parla di cibo e mangia oppure cucina oppure fa la spesa. però in realtà è un concetto che non entra ancora, ma non nel... No, ma non entra perché non c'è. Sì. Perché non c'è ancora. Perché nelle persone come noi magari tu lo spieghi, dici ah però bello, però al nonno ciccio che viene a comprare la verdura la mattina, cioè non... Però ti dico che... sono la sua fruttiva endo, cioè non sono capito questo. Fa fatica a entrare nell'idea ampia, cioè il punto di riferimento, i laboratori, le attività, tutte queste cose qua. Però siccome la risposta comunque c'è stata, dico probabilmente era una cosa che mancava, quindi tutto sta... Diciamo che... Forse trovare un compromesso. Chi ha bisogno di noi è arrivato. Sì. Poi il nostro dubbio appunto è mantenere comunque anche un'identità di bar normale oppure no? Oppure dedicarci totalmente ai bambini? E questo ecco è il rischio fondamentale poi. Che però speriamo che col tempo in un modo o nell'altro si risolva. O non si risolva ma andiamo avanti tranquillamente. Poi vabbè vi farò vedere gli spazi che comunque anche... Secondo me anche gli spazi sono caratterizzanti in un modo o nell'altro. Dipende anche dallo spazio che trovate se vorrete aprirlo. Perché il nostro per esempio è diviso in due stanze. Quindi questa cosa è possibile. Se ci fosse un unico stanzone già fai più fai fatica a fare l'unico bar perché se ti... cioè fai fatica a nascondere l'area gioco se non vuole... se la persona che entra non vuole i bambini che urlano fai fatica i bambini sono lì invece noi abbiamo due stanze i bambini sono di là nell'area gioco protetti ma anche diciamo non disturbano neanche le persone che ci sono di qua quindi da un certo punto di vista l'altra stanza le protegge da un certo punto di vista non le fa disturbare quelli che sono di qua quindi è una cosa positiva. ecco dopo vabbè ci ritorneremo i bar nelle vicinanze potrebbero essere un altro problema questo per qualsiasi bar ovviamente se lo prendiamo dal punto di vista del bar normale noi abbiamo deciso di fregarcene perché essendo appunto una cosa nuova abbiamo detto che ci sono tanti vari in realtà ne abbiamo almeno una decina vicini ma molto vicini uno addirittura di fronte è deciso ok non ci interessa puntiamo su questo ma puntiamo anche su un buon caffè in questo ritorniamo alla nostra scelta dei prodotti che comunque è stata curata anche per il caffè anche per appunto il livello qualitativo che volevamo tenere alto ok e poi soprattutto dobbiamo e dovrete puntare a non essere solo quartiere solo ma non servire soltanto il quartiere ma anche tutto il territorio noi del comune di Brescia ma addirittura la provincia sono venute parecchie vabbè più che per curiosità perché vabbè magari da 30 km non viene in tutti i giorni però sono venuti da 30-40 km di distanza solo per vedere poi vabbè noi siamo a Brescia quindi c'è il centro storico e quindi ti fai il giro di domenica di sabato pomeriggio in centro e poi appunto ti fermi però ecco con la clientela ovviamente non potremmo puntare su quella per sopravvivere chiaramente dovremmo puntare su una cosa un po' più ristretta però come punto di riferimento invece sì perché gli incontri e le attività invece ci sta che uno viene da 10-15-20 km di distanza una volta ogni tanto se è una cosa veramente valida ovviamente poi ecco per quanto riguarda la strategia di marketing che come dicevo prima manco sappiamo anche cos'è però questo c'è stato richiesto per il business plan quindi un pochino ci siamo addentrate la nostra idea era un'immagine fresca e innovativa per esprimere le nostre idee e per differenziarci dalla concorrenza basata sul colore e ovviamente su delle cose che richiamano al mondo dell'infanzia e dei bambini dell'illustrazione delle forme elementari e poi per quanto riguarda la promozione per noi è stata fondamentale perché avendo un budget molto limitato punto primo abbiamo deciso di non fare siti di non puntare sulla pubblicità né video attraverso le televisioni né radio né giornali perché sono tutte cose molto molto dispendiose almeno a Brescia qua non lo so però insomma un'inserzione sul giornale si parte dai 200 e si va in su 200 per una cosa così un trafiletto tipo biglietto da visita un giorno feriale cioè proprio una cosa una tantum insomma noi abbiamo cercato comunque di risparmiare in tutto e quindi abbiamo sfruttato come tutti voi penso che farete i social network che sono gratuiti specialmente facebook ma non solo e devo dire che questo si è rivelata una mossa abbastanza intelligente ovviamente come tutti vi diranno se avete sentito parlare comunque di social network se lo usate bisogna starci dietro cioè bisogna essere costantemente presenti se no puoi farlo però ovviamente più sei presente e più questa cosa funziona e non soltanto presente a livello promozionale freddo programmato strategico ma proprio personalmente cioè bisogna viverli e proprio anche un po' metterci in gioco sì lasciarsi rispondere sempre anche esserci sempre e questo è abbastanza pesante però funziona e tutto questo appunto per creare una community che con facebook sta funzionando con gli altri social un pochino meno ma perché semplicemente ci sono meno lo conosco meno quindi riesco meno a interagire a capire come le interazioni e come funzionano poi ecco siamo riusciti ad estare l'interesse dei media locali attraverso vabbè abbiamo fatto un comunicato stampa ovviamente non siamo professionisti neanche in questo abbiamo provato siccome la notizia era innovativa ci hanno ascoltato e ci hanno fatto uscire due articoli infatti la prima settimana tutti che sono arrivati dopo i due articoli quindi ecco bisogna tentarle bisogna un po' tentarle tutte ma questo sia per il family cafe che per qualsiasi cosa cioè bisogna proprio un po' continuare a proporre far promozione parlarne poi vabbè più sei entusiasta e più le persone ti ascoltano non ce n'è quindi prima cosa bisogna essere un po' entusiasta di quello che si sta facendo e riuscire a proporlo in modo da distare curiosità ecco la nostra politica di prezzo come dicevamo è offrire prodotti di buona elevata qualità a un prezzo accessibile proprio per venire incontro anche alle tasche delle famiglie e alle tasche di tutti ecco da questo punto di vista un altro nostro dilemma sì un punto su cui si potrebbe discorrere ampiamente è l'area giochi ha un sovrapprezzo oppure no cioè l'area giochi la nostra area giochi è due metri per cinque quindi una decine di metri quadrati ci starebbero tre tappi sto facendo un ragionamento puramente commerciale che non mi appartiene però a un certo punto siamo dovuti arrivarci quindi togli due tavoli quindi cosa fai un sovrapprezzo per l'area giochi fai consumazione obbligatoria fai questo è un altro dubbio noi abbiamo scelto è stata una scelta puntiamo sul fatto che siamo i primi che siamo sempre questa cosa qua puntiamo sul fatto che è una novità e cerchiamo di non andare a incrementare il prezzo anche se in realtà ovviamente l'area giochi ha un costo ha un costo di creazione prima di tutto e di manutenzione quindi questa è stata una scelta se appunto come vi dicevo siamo aperti da tre mesi magari non lo so dovremo alzare i prezzi io spero tanto di no speriamo di no e speriamo nel riscontro ovviamente più la gente viene più noi potremo non alzare i prezzi e quindi ecco anche queste sono scelte un po' neanche coraggiose magari anche un po' ingenue però noi la pensiamo così speriamo nel speriamo ok poi ecco l'analisi della concorrenza va bene per le colazioni per le pause pranzi bar vicini vabbè per l'associazione della bimbi locale bar nessun concorrente per le proposte culturali e artistiche l'oratorio o i circoli e le associazioni l'oratorio ha limiti evidenti limiti ha anche dei pregi perché ovviamente è più è più economico anche perché il festino di compleanno è molto più economico l'oratorio porti quello che vuoi fai tu la torta porti le bibite e l'oratorio magari ti chiede un'offerta quindi ovviamente lo spazio è anche meno meno bello meno accogliente cioè anche magari più casino il nostro è un pochino più raccolto ovviamente sono tutte appunto pensieri io vi sto elencando proprio il nostro iter anche di ragionamenti che abbiamo dovuto fare perché in un anno ne abbiamo fatti parecchi e alla fine affrontando ogni problema due, tre, quattro volte alla fine dopo riesci a capire come la pensi siamo in due magari io la penso in un modo la penso in un altro poi continuando a parlarne chiaramente vengono arrivi a una soluzione che poi se è quella giusta o meno vedremo i finanziamenti appunto abbiamo il bando della regione Lombardia non l'abbiamo vinto abbiamo però chiesto un finanziamento in banca che abbiamo ottenuto e abbiamo usato per il 50% un finanziamento appunto della banca e per il 50% capitali personali allora la raccolta informazioni mi scuso per le fotografie perché le ho fatte col cellulare a febbraio 2014 siamo andati a Berlino perché in tutto questo percorso io volevo andare a toccare con mano e vedere delle realtà che esistevano cioè che esistevano e funzionavano e allora sono andata in spedizione ne ho visti una decina circa è stata molto interessante molto è stato bello più che altro perché ho visto delle realtà che già funzionavano ho visto quello che io sognavo quindi il mio consiglio ovviamente è anche lì se volete creare qualsiasi cosa andate a vedere dove già c'è o dove già c'è qualcosa di simile perché oltre all'arcolta di tutte le informazioni che adesso vi farò vedere è anche rassicurante perché la vedi e dici ok quando l'han fatta cerco sarà possibile farla anche da noi e ovviamente sono andata a Berlino perché appunto come dicevamo prima qua in Italia ne ho trovati praticamente due di cui uno era l'associazione culturale ma ecco parentesi noi abbiamo all'inizio abbiamo pensato anche alla possibilità di fare un'associazione culturale per ovvi motivazioni fiscali ma anche proprio per vogliamo diventare punto di riferimento non vogliamo comunque organizzeremo varie attività inerenti al sociale inerenti comunque al culturale ci potrebbe anche stare che comunque facciamo un'associazione culturale questa cosa è ancora in forza perché in realtà dopo abbiamo abbiamo capito che insomma noi comunque l'impronta che volevamo dare era commerciale cioè noi se ci lavoriamo lì 10-12 ore al giorno purtroppo abbiamo bisogno di mangiarci quindi comunque l'impronta volevamo che fosse commerciale dichiaratamente se tu fai un'associazione culturale almeno dal nostro punto di vista sei sempre comunque in ok faccio l'associazione però non devo non posso proporla in modo smaccatamente commerciale quindi io perlomeno non mi sentivo in non mi sentivo coerente e mi sentivo un po' anche con le mani legate ciò non esclude in futuro eventualmente di fare un'associazione culturale da accostare solo per gli eventi appunto culturali e comunque incontri in cui magari a livello fiscale possiamo non è gestita in modo separato perché appunto noi dagli incontri al momento li facciamo più per promozione che a livello commerciale ok parentesi chiusa Berlino qua una serie di fotografie che appunto brevemente vi faccio una carrellata ovunque lavagne Berlino c'erano ovunque lavagne perché è il modo più diretto per vedrete anche mille bar c'erano le lavagne perché è il modo più diretto per comunicare con la clientela e poi sembra sempre una cosa più fresca più immediata più più quotidiana come in realtà poi ecco c'è a Berlino parecchi family cafe avevano questa delle strutture proprio in legno costruite all'interno del locale per esempio questa qua aveva proprio un solaietto in cui qua così c'erano le scale salivi e qua c'era una specie di alcova per i bimbi cioè delle cose meravigliose che purtroppo non siamo riusciti a fare ma che io ancora in programma perché è stupenda cioè sono delle cose bellissime però ovviamente il costo lievita però tanto per per farvi vedere che comunque sono sono avanti cioè si vede che è una tradizione che comunque prosegue cioè continua da tanto sono molto radicati appunto qua vediamo il box con sopra una specie di dondolino per i bimbi più piccoli poi ecco anche lì molti prodotti particolari salutisti cioè salutari naturali biologici ovviamente in un posto dove ci sono i bambini questa scelta secondo noi è doverosa infatti una delle scelte anche questa abbastanza coraggiosa è stata quella di non i fornitori sono arrivati e ci hanno cominciato a elencare una serie di prodotti che vanno bene per i bambini tipo caramelle gommose di Spongebob caramelle lecca lecca di Peppa Pig ecco noi abbiamo cercato di evitare in massa quella roba qua cioè abbiamo preso ok marshmallow ok liquirizie e tre patatine anche questa è una scelta che non è per niente commerciale cercheremo di portarla avanti e cercheremo di farla capire anche ai clienti e speriamo che comunque l'apprezzino perché arrivare col bambino che comincia voglio quello voglio quello voglio quello noi non sembrava molto corretto però ovviamente forse siamo un po' presuntuose vedremo questa è la nostra idea in un mondo fantastico ecco poi vabbè ho fotografato tutti i listini per sapere comunque cosa tutte le proposte che appunto questi family cafe facevano centrifughe succhi fatti in casa tisane infusi di tutto poi ecco qua c'erano le fotografie di un laboratorio che avevano fatto e anche quello è molto importante la valorizzazione delle attività che si fanno attraverso attraverso la pubblicità il mostrare appunto cosa si fa è fondamentale se le immagini con immagini di più che con parole e se le immagini sono belle ancora meglio perché vedo io che se faccio le foto col mio cellularino è una cosa se faccio le foto con la mia macchina fotografica con un certo modo criterio le luci giuste è tutta un'altra cosa io ovviamente sto parlando di facebook ma cioè che al momento è il nostro mezzo di comunicazione più efficace quindi parlo di facebook ma come di pinterest come di di tumblr di tutte quelle cose lì e anche ovviamente volantini e quindi più le immagini sono belle più funziona su questo purtroppo bisogna essere un po' commerciali ecco la più grande differenza tra noi e quello che ho visto in Germania è che in praticamente quasi tutti i family cafe a Berlino si entra scalzi questo sono arrivata e ho detto mai mai poi mai in Italia si potrebbe fare una cosa del genere mai infatti non l'abbiamo fatta perché se no rimanevamo dentro noi da sole e tutti ovviamente per motivi di igiene ma là sono anche abituati cioè si entra in casa si toglie le scarpe noi abbiamo limitato l'entrata nell'area giochi scalzi ma c'è ancora qualcuno che fa fatica anche tra i bambini toglietevi le scarpe almeno nell'area giochi col tappeto è giusto in Germania praticamente le scarpe dei genitori dei bambini venivano lasciate dove all'ingresso una scarpiera una scarpiera allora nel migliore dei casi una scarpiera nel peggiore un po' così all'ingresso molto molto fritta i calzettoni antiscivolo o poi camminavano con le loro tranquillamente è così cioè è una cosa che è presa per normale anche io da brava italiana quando entravo facevo un po' fatica anche perché poi c'era la neve meno 20 meno 15 dai e dopo entravi togli le scarpe con la neve attacca però là è una cosa normale questa è l'unica cosa che ho detto proprio qua però è stato utile per andare comunque a capire per esempio noi appunto essendo divisi in due stanze l'idea sarebbe eventualmente in un futuro di limitare l'altra stanza cioè togliersi le scarpe per entrare nell'altra stanza ma in un futuro molto prossimo perché assolutamente da noi è praticamente impossibile vedo le mamme che arrivano con i tacchi non esiste di fargli togliere i tacchi quindi proprio non penso che sia possibile no assolutamente e io invece so sì anch'io io sarei sempre scalza anch'io sarei sempre scalza quindi entrare in un bar e togliersi le scarpe cioè per me sarebbe il massimo però vabbè ok ok poi altre cose che ho visto palline palline ovunque palline piacciono tantissimo adesso voi se avete bimbi lo sapete che le palline va impazziscono noi non abbiamo ancora realizzato una struttura del genere abbiamo soltanto una vaschetta con le palline in cui sempre tutti i bambini che arrivano ci si mettono dentro e le palline rigorosamente finiscono ovunque nel bar e poi ecco qua un'altra di queste strutture proprio fatte ad hoc create appositamente per il per il locale qua c'è invece uno scivolo cioè entrambe queste c'è uno scivolo cose meravigliose che forse in futuro faremo ecco poi un'altra cosa che la funziona parecchio è lo spazio emporio seconda mano o nuovo artigianale tutti i famigli caffè hanno il loro angolino emporio che vendono appunto creazioni non enorme alcuni un po' più grande alcuni un po' più piccolo però c'è sempre noi non l'abbiamo ancora realizzato perché l'ufficio commercio del comune di Brescia c'è ostile in questo senso siamo andate anche lì a Natale abbiamo fatto a dicembre siamo informati per fare un mercatino ma assolutamente non è possibile vabbè anche lì un po' di problematiche burocratiche nel senso noi abbiamo la licenza per somministrazione quindi non possiamo vendere nient'altro neanche le nostre magliette quindi o lo fai comunque in modo non dichiarato però chiaramente vedi anche tu che o metto fuori un angolino dicendo scrivendo la merce è soltanto esposta e non è in vendita però è un po' tolto lo scopo adesso vedremo l'idea una delle idee rispetto a questa cosa di collaborare con altre realtà comunque commerciali potrebbe essere la domenica mattina siamo d'accordo con una cooperativa agricola che se riusciamo a ottenere i giusti permessi vorremmo fare un mercato nello spazio antistante la domenica mattina così non rompiamo le scatole i commercianti i fruttivendoli un mercato biologico la domenica mattina però anche qua dovremmo andare per vie cioè avere delle deroghe questo progetto deve far parte di una cosa di più ampio respiro non è noi siamo un bar e vogliamo vendere la fuga no assolutamente l'ufficio commercio del comune di Brescia veto non esiste quindi comunque sono cose ci proveremo ci riproveremo se non ci riusciremo a io ho il problema contrario sono un minimercato ma non posso somministrare pur avendo la cucina pur avendo sono un pur avendo la cucina sì io ho la la cucina che in realtà è il mio laboratorio no dove posso fare del take away però chiaramente dovrei mandare via il mio cliente immediatamente dopo l'acquisto dovrei dire vai via non puoi mangiare qui in realtà questa è somministrazione anche noi saremmo così in realtà le persone devono prendere e portare e portare invece i miei clienti ad esempio ultimamente che faccio la focaccia che io la faccio per portartela via e la mangiano lì cioè non è che posso dire vabbè vattene non puoi mangiare qui la focaccia però purtroppo ma queste sono dei piccoli è un limite io lo trovo veramente un limite però sì è così sì quindi problema esattamente sono queste piccole sono piccole grandi cose che se fai una cosa ibrida comunque a un certo punto ti trovi a dover affrontare no e più che altro il burocrate che ne resta sconvolto io direi diciamo io già per dire ma perché tu vuoi fare una cosa ibrida cioè che non è un bar ok bar tieni il modulo ristorante ok tieni il modulo vendita di ad esempio a me non si non si figuravano del perché io volessi omologare una cucina una cucina domestica cioè diciamo perché perché non usi una cucina industriale come tutti gli altri perché lo scopo non è quello cioè non è produrre cibo in maniera massiva ma è fare piccole cose per sì ma il problema è poi che secondo me in queste cose qua nel rapporto come dicevano stamattina nel rapporto con le istituzioni boh ci provi una volta ci provi due volte la terza ci provi magari per una via un po' più traversa e poi alle tante ma se ti va bene ce la fai se ci credi tanto vai avanti e alla fine magari riesci se no desisti se no trovi degli scamotaggi ma la difficoltà è proprio quella cioè che quello che penso io almeno adesso insomma io sono tornata ad avere questa attività per conto mio dopo 15 anni perché tanti anni fa pure lavoravo ancora per conto mio è la difficoltà del dover trovare cioè io l'ho fatto in questo momento della mia vita perché avevo le persone giuste che mi potevano dare una mano a fare determinate cose non dovrebbe essere così e questo è la difficoltà maggiore cioè io non devo andare a chiedere all'amico che magari mi è influente o mi dà una mano perché ho questa idea che è nuova è ibrida è il burocrate però beh stamattina stavano parlando Paolo e Catiuscio del Nido Famiglia che comunque parecchie cose non sono normate non sono ancora non esiste una normativa c'è un vuoto normativo per esempio il Family Cafe sì ma potete fare all'area giochi cioè ci entrano a volte delle persone ma cosa bisogna fare che per me se ci vogliono non esiste non esiste quindi io posso mettere un tappeto dove i bambini giocano perché fondamentalmente non esiste poi vabbè ovviamente abbiamo una responsabilità civile ma quello in tutti i bar non c'entra quindi capito che anche a livello burocratico perché anche questo lì anche questo aspetto immagino vi interessi non esiste non esistendo in Italia non c'è regolamento per i femmini caffè non c'è c'è per i bar quindi ti devi ottenere alla normativa dell'ASL quindi fare il corso HCCP avere i requisiti professionali per il bar quindi la cosa fondamentale è il bar dopo se tu metti un tappeto con delle macchinine che sia grosso così o che sia di 50 metri quadrati in teoria se tu non la chiami ludoteca perché dopo per la ludoteca ci sono altre cose ma la nostra non è una ludoteca perché non abbiamo responsabilità noi c'è il bambino che gioca accanto a te che sei il genitore e hai la responsabilità quindi non è è così noi le nostre leggi a cui la nostra normativa a cui noi ci siamo comunque adeguate è quella del bar del bar è stop ovviamente anche incendio tutte quelle cose lì che se hai una società perché se sei da solo in titolare queste sono proprio cose pratiche burocratiche però se sei da solo sei titolare non devi cioè se sei in due praticamente ti comporti come se fossi una un'azienda con un dipendente uno fa la parte del padrone e uno si comporta come un dipendente per quanto riguarda l'antincendio il pronto soccorso tutte quelle cose lì l'RSPP e quindi tutti questi corsi sono da fare quindi ecco questa è proprio la parte burocratica però per esempio noi ci siamo appoggiati a un'associazione che si chiama ASCOM associazione commercianti a Brescia che aiuta probabilmente c'è anche qua una cosa del genere vi aiutano c'è una tessera associativa vi aiutano a fare i corsi vi dicono tutto quello che c'è da fare e cioè nel senso è come aprire un bar alla fine ok andiamo avanti velocemente qua altri femmine di caffè qua vedete che l'angolo è molto più è molto più ampio qua sempre lavagno ovunque e poi ecco un'altra cosa interessante che ho visto che mi ha fatto tornare un po' la speranza è il bancone handmade a Berlino cioè qua se apri un bar la prima cosa che ti dicono il bancone il bancone bar nuovo va dai 10.000 ai 20-30.000 euro dipende da cosa ci metti dentro a Berlino io ho visto il frigo di casa cioè dietro il bancone il frigo che tu compri all'MZ cioè tranquillamente è un frigo l'importante è che tu ci metti fuori la temperatura col termometro quindi ecco io ho visto questa cosa ho detto ma sì forse ce la facciamo infatti dopo non siamo andati a cercare un bancone vero costruito ad hoc ma abbiamo cercato un bancone usato e l'abbiamo rimesso a posto semplicemente questi tutti i trucchetti per risparmiare ma vabbè dopo se non hai soldi un po' ti ti viene sì poi è paura è chiaro pure il frigo normale perché nella cucina non è sì però in realtà anche per il pubblico il problema è che se hai un frigo normale non si vede la roba e quindi se hai un bar la vetrinetta fa sempre la sua la sua scena perché vedendo le cose semplicemente le ti invoglia di più comprarle ma quelle poi sono scelte no? li hai bene se non li hai l'anno prossimo quindi poi ecco qua ovviamente i fasciatoi rigorosamente Ikea sempre su e questo per esempio tante piccole cavolatine che però quando dopo ti trovi a progettare e a allestire il locale capisci noi questo non ce l'abbiamo questa è una cosa che ho visto su perché d'estate probabilmente lascia una porta aperta e quindi hanno praticamente una specie di cancelletto per non fare uscire i bimbi che sono cose che magari non ci pensi però quando ti trovi tutti i giorni cioè quando ti trovi poi a dover proprio pensare per esempio una cosa che abbiamo dimenticato è l'appendiabiti per i bimbi che adesso in questi giorni metteremo subito perché mi è pensato a tutto tranne l'appendiabiti per i bimbi perché era settembre quindi non c'erano le sacche ecco ovviamente sono tutti errori che dopo aggiusti questi appunto sono altre questo non ha bisogno di spiegazioni perché vabbè questo in particolare è bellissimo in questo bar c'era anche il water piccolino sempre su queste sono tutte fotografie di locali di Berlino e questo vabbè ovviamente è lo sgabellino per arrivare al lavabo e il riduttore o il vasino che vabbè vabbè questo più o meno ve l'ho detto no vabbè sì siamo noi due io e Roberta che siamo al 50% stavamo parlando anche prima a pranzo di questa cosa dei soci che è una delle cose che potrebbe creare più difficoltà più incomprensioni più preoccupazioni anche però dal nostro punto di vista cioè dal mio punto di vista e penso anche quello di Roberta è un matrimonio dicono tutti così e hanno ragione cioè è proprio come essere cioè sposati però questo ecco nel Family Cafe è come in qualsiasi altra realtà imprenditoriale alla fine l'importante è avere due aree almeno per la nostra esperienza è avere due aree ben distinte di intervento cioè noi venivamo da due ambiti completamente diversi siamo amiche da un bel po' di anni ci conosciamo da un bel po' di anni conosciamo i nostri punti critici se volete aprirlo con una vostra amica avrete gli stessi la conoscete quindi appunto sapete bene su cosa potete andare d'accordo e su cosa no se invece è una persona che non avete che non conoscete bene da un certo punto di vista è una cosa negativa dall'altro potrebbe anche rivelarsi positiva nel senso che una volta decisi due ambiti non si cioè si è anche forse un pochino più rispettose rispetto magari noi che siamo due amiche e quindi spesso magari bocci un po' invadiamo il campo senza troppo rispetto capita a me capita a lei cioè e quindi ecco questo però ecco il mio consiglio domenica è venuta una ragazza di Bergamo a trovarci per appunto chiederci come avete fatto raccontatemi com'è a vedere il posto e lei mi ha detto io sono cosa che era puericoltrice mi sembra e le sue due amiche erano una nel campo della finanza e un'altra voleva aprire una libreria gli ho detto guarda fondamentale se volete aprire un femmini caffè o comunque una cosa dove c'è il bar qualcuno deve avere competenza e esperienza per il bar perché purtroppo ti possono piacere un sacco i bambini ma noi i bambini li vediamo quando entrano e quando escono stop noi i bambini praticamente non li vediamo poi certo entrambe piacciono i bambini io ho fatto la babysitter per un sacco di anni quindi magari c'è anche un diverso tipo di approccio magari rispetto a una persona che ti devono piacere però non c'è non c'entra con questa cosa qua la la cioè la focalizzazione fondamentale è quella sul bar il bar la somministrazione la preparazione del caffè degli aperitivi il servizio il saper stare con la gente di sicuro quindi io ho consigliato a questa ragazza ha detto bello però trovati qualcuno che abbia che abbia esperienza che abbia un appoggio che abbia esperienza perché comunque ci saranno di sicuro dei problemi e se hai l'esperienza hai anche un altro tipo di approccio a questi problemi quindi ecco la Roby i suoi genitori in un ristorante e questo ci aiuta parecchio perché ovviamente tutti i problemi che abbiamo noi adesso li hanno avuti loro non tutti però insomma parecchi per quanto riguarda tutta la parte della ristorazione ecco le diverse aree sono la Roby si occupa dei fornitori della questione prettamente commerciale e tecnica della ristorazione quindi la torta la cosa è gli ingredienti cosa sono fatti per quanti giorni la possiamo tenere queste cose qui e i fornitori manca questo manca quello andiamo a fare la spesa io mi occupo di tutto quello che riguarda la promozione la grafica i comunicati tutte quelle cose qua e l'organizzazione di eventi allora ecco qua abbiamo già più o meno detto l'area gioco e vabbè il listino è puntato su cibi che piacciono ai bambini ma senza dimenticare che devono essere sani buoni e approvati dei genitori la scelta niente troppe caramelle ve l'ho già detta ok le attrezzature le attrezzature fondamentali perché come vi dicevo prima è un bar però e per questo orientatevi verso dobbiamo aprire un bar però non dimenticatevi che non deve avere un due per due con due macchinine una bambola perché perché la parte di family caffè deve essere importante per funzionare per essere allettante i giochi devono essere tanti devono comunque ruotare devono essere intercambiati deve essere ovviamente pulito ma questo è scontato devono esserci le scaffalature a misura di bambino i giochi il seggiolone i tavolini bassi il fasciatoio e queste cose non sono in più ma sono fondamentali perché come fondamentale il frigorifero e un certo tipo di frigorifero appunto anche normale però deve comunque avere certi requisiti tecnici tutte queste altre attrezzature che riguardano l'accoglienza dei bambini devono esserci e devono essere e sono parte fondamentale cioè non può esistere che non c'è il fasciatoio come non può esistere che non c'è l'attaccafani per i bambini questo si sia arrivate però è tutto un work in progress ovviamente tutto questo comporta una maggiore spesa quindi spesso i giochi ci vengono regalati c'è anche questo da dire perché praticamente ogni tanto arriva qualcuno c'è un po' di giochi da regalarvi va bene portali facciano ruotare ovviamente selezioniamo quelli buoni quelli sani quelli non rotti e li facciamo girare cioè ok allora l'apertura adesso finalmente ve lo faccio vedere o volete fare la pausa no ok ecco questa è la nostra creazione allora il locale è articolato in due stanze come dicevamo questa è la stanza ad entrata questo appunto è il bancone usato rimesso a nuovo con carta da parati nella specchiatura e i pezzi di laminato che abbiamo usato per rifare il pavimento andare a coprire le parti che erano tipo in granito orribile per alleggerirlo un pochino abbiamo messo appunto queste questi rimasugli di laminato questa è la lavagna chiaramente come ho visto che è fondamentale la macchinetta del caffè anche quella usata tutto quello che si poteva usato che fa tanto vintage infatti ci hanno detto ah ma è vintage sì in realtà è usata perché costava poco però vintage rimodernata messa a nuovo queste sono delle lampade che abbiamo trovato in un mercatino vabbè praticamente l'unico vezzo che abbiamo avuto un pochino costavano un po' abbiamo detto ma sì dai le lampade ci stanno questa qua è invece una credenza che aveva mia nonna che abbiamo scartavetrato e ripitturato tutta di legno pesante con qua sopra vetrinette con colonne in una stanza piccolissima era veramente una cosa ingombrante l'abbiamo messa qui pitturata di quel verdino ci sta proprio mille complimenti anche mia nonna la mia credenza poi ecco questo tavolo era la testata del letto dell'altra nonna ripitturato a cui abbiamo fatto fare abbiamo fatto costruire la struttura questa va bene è una vecchia macchina da cucire queste sono tutte seggiole ritrovate in mercatini anche queste qui sono tutte ripitturate da noi questo tavolo anche poi le sedie ovviamente sono tutte diverse o quasi però diciamo che in un tipo di locale come questo è un appregio anziché un difetto ecco ovviamente quello che voi ripitturate deve essere ripitturato bene nel limite del possibile non siamo professionisti quindi abbiamo provato ovviamente ai suoi difetti nel senso sono magari un pochino più sbeccate questo è uno delle altre incognite se la nostra clientela apprezzerà questo tipo di approccio ci perdonerà anche gli inconvenienti e i problemi lo speriamo se no cambieremo le sedie questa invece è l'altra stanza dall'altra stanza che vi ho fatto vedere si va di qua e orco non ho portato la pianta e si arriva da questa parte questa è una carta da parati sono carte da parati ecco questa carta da parati c'è un altro consiglio è di sviluppare delle collaborazioni con amiche con persone che hanno altre realtà che condividono i vostri stessi principi per esempio queste carte da parati ci sono state non regalate ovviamente però abbiamo avuto diciamo una collaborazione tra questa mia amica che fa interior design e ha un negozio che tratta di queste cose perché ovviamente tutta la visibilità che voi date a loro poi ritorna o comunque ci si fa da specchietto a vicenda quindi la cosa fondamentale è aprirsi e cercare di continuamente allacciare contatti semplicemente poi ecco questa è l'area giochi questa qui delimitata qua c'è il seggiolone questa è una una lampada che abbiamo rimesso a nuovo noi con i cestelli per il burro tipo una cosa trovati lì ho detto proviamo a farla questa è Roberta che non c'è ok le pareti vuote sono rimaste sono ancora vuote perché abbiamo la prima esposizione a marzo perché la nostra idea è di fare esporre illustratori per bambini o anche pittori o anche fotografi comunque fare anche delle esposizioni d'arte magari associate a laboratori per esempio invece di fare la classica inaugurazione con buffet fare inaugurazione con laboratorio per bambini in cui magari l'artista spiega fa una visita guidata per i bambini spiegando le opere e magari fa anche un piccolo laboratorio quindi in questo modo c'è anche un approccio un modo diverso di far approcciare i bambini all'arte questo è sempre altra lavagna su cui disegnano i bimbi questa è la la vetrina il palazzo non è il massimo devo dire è un palazzaccio orribile anni 70 però il posto era perfetto c'è anche l'area fuori che allistiremo adesso per l'estate l'insegna è stata dipinta a mano perché avevamo le insegne al neon fuori quelle quadrate le rete illuminate ma dopo mesi di tentennamenti come facciamo l'insegna togliamola perché fa schifo la disegniamo quindi anche lì sporto perché ovviamente c'è tutto un casino come le grubinanti allora questa è la vetrina di sinistra questa è la vetrina di destra qua c'è un'area in teoria qua così è in mezzo che vedono quell'area lì c'è un faretto in realtà l'insegna non è ancora illuminata le due insegna non sono illuminate è illuminata soltanto la parte qua in mezzo dove non c'è scritto niente si 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 sono pallet colorati no i pallet no li abbiamo messi così proprio perché sono soltanto no questo no questo non l'abbiamo chiesto in realtà perché poi l'area qua esterna è nostra cioè ci ha detto comunque il proprietario che è nostra privata quindi non però è così dovremo illuminarle stiamo un po' temporeggiando per capire come nel senso che io ce l'ho di materiali che dici sì il problema è che non riesci sì il problema è che fa fatica a illuminarla però io abbiamo comunque fatto questo questa scelta perché secondo noi era più consona quello che poi c'è all'interno cioè una cosa boh più fatta a mano che c'è non sembra in Italia quando me lo dicono oh che bello dico ok ho fatto la cosa giusta me l'hanno detto anche le vetrinette in frigo avete sistemato sì con la carta da parati c'è arrivata questa vetrinetta a frigo anche quella usata orribile che ho scritto Santal e noi l'abbiamo ricoperta tipo il giorno prima dell'apertura quello proprio sì sì abbiamo cercato comunque di far tutto con un certo criterio e anche questi stencil li abbiamo fatti noi proprio comprando la carta adesiva bianca e abbiamo ritagliato tutti i fiori questo è il bagno che abbiamo adeguato perché c'erano due bagnetti piccoli abbiamo dovuto rifare tutto per l'accessibilità ai disabili e abbiamo approfittato della cosa per fare il nostro lavandino piccolo e ovviamente colori e cose un po' cioè e stile un pochino particolare un pochino perché comunque anche qua siamo andati comunque al risparmio mattonelle più quelle buone ma più economiche abbiamo cercato comunque di usare dei giochi di colore fatti dopo anziché delle piastrelle super particolari la comunicazione è fondamentale io non sono un'esperta di comunicazione per niente facevo l'architetto non ho mai studiato ok ok lo dico facciamo una pausa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti